Nel proprio domicilio è diventato molto più facile, molto più facile, è molto più facile e è ammesso sostanzialmente e questo ha provocato a livello giurisprudente dell'applicazione della norma un po' di problemi perché è così sbagliato, si ritorna al discorso che facevo prima e in realtà quando si arriva secondo me alla gentima difesa vuol dire che comunque il sistema è diventato, è quello del discorso C'è un'altra domanda? Grazie Grazie